Tipi di reazioni quando la prof porta le verifiche corrette Ovviamente ho 9 classi, non le posso portare subito Seguimi e domani mancherà un professore Solo se mi segui e scrivi nei commenti quale Il bugiardo Quello che magari prende 4 nella verifica E come sei andato? Bene, bene, ho preso 9 Tu, teniti pure i tuoi segreti L'onesto Quello che sapeva di essere andato male E lo dice, senza problemi Sei il migliore Il copione Quello che ha copiato tutta la verifica E quindi neanche gli interessa il voto Perché sicuramente è un bel voto Quello che... Oh, come stai messo? Non ho studiato niente, non so niente E prende 8, 9 o addirittura 10 Non parlarmi mai più, sei un bugiardo E poi lei è l'attrice Quella che prende 4 No prof, ti prego, rifacciamola No, ora come io la dico a mamma